E quindi noi vediamo che il dispositivo sul quale ci concentriamo è connesso anche al blocco che consiste in tre dispositivi a Belgrado quindi per esempio coloro che non hanno il dispositivo fisico hanno il dispositivo online anche loro sono connessi a questi dispositivi a Belgrado a questo blocco di tre dispositivi a Belgrado quindi partecipiamo a tre dispositivi quindi a quale ci siamo connessi con i quali ci siamo connessi e poi per esempio lavoriamo specificamente anche con un altro dispositivo che sta lavorando per il nostro obiettivo di controllo через 2 прибor вообще все приборы fisici какие есть связаны у всех одинаковые в видеонаблюдения, которые в зеркальце я запуталась повторять про первый, пожалуйста сначала про первый а чё про первый? ну вот у нас блок, все приборы связаны, да, Нафис? угу а через 2 прибор, который в блоке, который зеркальцем помнишь? да, да, да он у всех одинаковый через него вообще все приборы связаны, да? e poi c'è anche il secondo dispositivo che ha uno spicchietto e tramite questo dispositivo quindi noi vediamo che questo dispositivo è connesso a tutti i dispositivi in generale a tutti i dispositivi universalmente и впереди бесконечное количество приборов в будущем бесконечное количество модификаций приборов e poi davanti a noi percepiamo anche il numero infinito dei dispositivi del futuro quindi anche delle modifiche infinite del numero infinito dei dispositivi nel futuro но при этом тот прибор который у нас сейчас он связан с бесконечно удаленным прибором такой быстрый связи мгновенный но во stesso tempo il dispositivo che abbiamo ora adesso è connesso anche al dispositivo infinitamente allontanato infinitamente remoto quindi abbiamo subito questa connessione e quindi nonostante le future proprietà dei dispositivi del futuro percepiamo che i dispositivi del futuro sono connessi al secondo dispositivo e poi anche il secondo dispositivo è connesso anche ai dispositivi nel presente quindi sono connessi ragazzi connessi migliore colui di come e E quindi così vediamo che ci siamo connessi ai dispositivi del futuro, del presente e tutti i dispositivi stanno lavorando per assicurare, quindi per garantire la ricostruzione della salute di Alessandra. In più anche per assicurare la vita eterna nei corpi fisici in tutte le persone, in tutti. E la fede è più alta di tutte le tecnologie del dispositivo, perché la fede quindi in questo caso si rappresenta dal raggio, che parte dal cuore e va verso l'infinito.